Il Fano sembra rinato, l'Alma conquista la seconda vittoria consecutiva ed espugna per 1-0 il campo del Renate, una diretta concorrente per la salvezza. Mister Epifani non regala sorprese nell'undici titolare, schieranno gli stessi uomini che hanno battuto una settimana fa il Rimini al Mancini. Pronti via e l'Alma passa subito avanti. Al terzo infatti Vitturini serve Ferrante che con un tiro in diagonale supera Cincilla e fa esplodere il settore riservato ai tifosi Granata. Al ventesimo il Fano sfiora addirittura il raddoppio con il colpo di testa proprio di Vitturini che per poco non inquadra lo specchio della porta. Il Renate fa fatica a creare situazioni pericolose e ogni minimo tentativo del reparto offensivo nerazzurro viene arginato dall'attenta retroguardia Granata. Nella ripresa il ritmo non cambia. Il primo tiro in porta per l'Alma arriva da una punizione di Lazzari da posizione defilata che impegna il portiere di casa. La risposta del Renate arriva dopo appena un minuto con Gomez che con un tiro dai 35 metri prova a sorprendere Voltolini ma il numero uno dell'Alma si ristende e respinge. Poi il Renate si butta tutto in avanti alla ricerca del pari ma non riesce a creare niente di pericoloso. Il Fano torna ad esultare pure in trasferta quindi assume la miglior medicina per presentarsi in forma al derby di martedì contro la Vis.